Buongiorno. È partita questa mattina la distribuzione porta a porta delle mascherine nel comune di Sturno. L'amministrazione di Leone ha acquistate ben 2000 da distribuire a tutta la popolazione per far fronte all'emergenza coronavirus. Non siamo riusciti a trovarle subito perché naturalmente in questo periodo di tante richieste le mascherine, come tutti sappiamo, lo dicono i Tg, lo dicono i giornali, le mascherine mancavano. Noi siamo riusciti a reperirle grazie all'intercessione anche di qualche amico che ringrazio. Le abbiamo procurate, stamattina ce le hanno consegnate e abbiamo iniziato la distribuzione con un criterio che ritengo più o meno equo, giusto. daremo due mascherine per ogni nucleo familiare composto da due componenti o più e una mascherina per i nuclei familiari di una sola persona. Naturalmente l'invito, ed è anche nell'avviso che io ho fatto sui social, l'invito è quello di rimanere a casa, cioè avere la mascherina o avere le due mascherine non significa che una persona può uscire, può andare in giro, ma può uscire sicuramente sì, ma per motivi di salute o per fare la spesa come le regole che in questi giorni abbiamo diramato sui vari avvisi dicono. Al momento non ci sono casi di Covid-19 nel piccolo comune Ufitano. I cittadini, conferma il sindaco, stanno rispettando le regole imposte. Sui 115 controlli effettuati dai carabinieri e dai vigili urbani sono state denunciate solo 6 persone che, come prevede l'ordinanza regionale, si trovano al momento in isolamento fiduciario. 12 invece sono gli sturnesi rientrati da altre regioni, anche questi stanno concludendo il periodo di quarantena a casa. Sono invece 5 le persone in isolamento obbligatorio raccomandato dall'asla di Avellino. Abbiamo in isolamento obbligatorio le 5 persone che finiranno la quarantena fra qualche giorno, il 27 di marzo. Sono persone che hanno avuto un probabile contatto con una persona contagiata della zona di Ariano e sono in isolamento obbligatorio comunicatoci dall'asla, sono a casa. Il sindaco non ha mancato di esprimere la sua vicinanza agli abitanti di Ariano Irpino e più colpiti in provincia dall'epidemia. Ad Ariano mi legano 25 anni di lavoro, di grandi collaborazioni, di grandi amicizie. Davvero mi piange il cuore. Sono certo però che gli arianesi sapranno reagire con forza per ritornare una comunità viva, una comunità laboriosa e una comunità appunto di riferimento un poco per tutti i comuni vicini e per tutti quanti noi. Infine una promessa ai suoi concittadini. Dobbiamo rimanere a casa, dobbiamo rimanere lontano purtroppo dai contatti sociali con la speranza che un giorno magari non lontano ci incontreremo tutti quanti qui davanti al Comune per una bella giornata del sorriso e dell'abbraccio che faremo tutti quanti insieme.